Diciamo che è tornato il sindaco ma sono andati via i consiglieri di maggioranza. Il consiglio comunale di Arezzo salta per mancanza di numero legale e così il caso diventa politico con le opposizioni all'attacco. Non consentire lo svolgimento di un consiglio comunale su una pratica così importante è una vergogna. Si trattava infatti di un consiglio comunale richiesto da un quinto dei consiglieri con un solo punto all'ordine del giorno. La Costituzione di Perde Civile sul caso Coingast prima dell'udienza preliminare fissata per il 23 marzo. A proporre l'atto di indirizzo i gruppi PD Arezzo 2020, Lista Rally e Movimento 5 Stelle. Nel momento in cui viene evidenziato un danno di immagine, un danno economico del Comune di Arezzo è giusto che i colpevoli, qualora ci siano dei responsabili riconosciuti, ne debbano pagare le conseguenze. Quindi si tutela in questo modo l'interesse pubblico della città e degli aretini. Le due convocazioni però sono andate entrambe deserte sul fronte della maggioranza. Io avrei auspicato che i consiglieri di maggioranza fossero venuti in consiglio comunale, avessero partecipato ai lavori e poi liberamente avrebbero espresso il loro parere. Ma non venire è veramente una mancanza di rispetto per i cittadini di Arezzo e per il consiglio comunale. Io non avevo neanche firmato assieme alla mia collega di consiglio Sileno questo atto richiesto da Romizzi, ma riteniamo giusto votarlo perché nel momento in cui dovesse emergere un danno per l'ente, un conto è l'ente Comune di Arezzo e l'istituzione, un conto è la maggioranza che lo governa in questo momento. Quindi è buona cosa intanto augurarci che tutti siano innocenti, ma se non dovesse esserlo, ci dovesse essere dei danni ai cittadini di Arezzo per cifre tra l'altro che sono anche consistenti, è giusto proteggere l'ente da errori dei singoli. La maggioranza già in più di un'occasione si era espressa sulla volontà di non costituirsi parte civile nel processo, ma di agire solamente in sede civile nei confronti di chi eventualmente sarà ritenuto responsabile di eventuali reati. Volontà ribadita ancora una volta oggi dal capogruppo di Oraghinelli, Simon Pietro Palazzo. Sarebbe assurdo al dichiarato discutere nuovamente un atto di indirizzo esposto male ed incompleto, oltre che superato alla luce delle iniziative avviate dalla Giunta. Sulla vicenda è poi intervenuta anche la Lega. Il giustizialismo, fine a se stesso, scrivono, non appartiene al compendio valoriale della Lega e del centro-destra e per questo i contenuti dell'atto proposto dalle opposizioni non possono che essere rigettati fermamente dal nostro gruppo. Non essere presenti al Consiglio Comunale non è negligenza, ma una scelta politica, chiara e trasparente, conclude infine il gruppo di Forza Italia. Il fine di mozioni come questa è quello di buttare in cacciara una cosa seria come un giudizio penale.